E' solo questione di ore per la pubblicazione del nuovo bando per l'affidamento delle sorgenti d'acqua di Canistro. L'annuncio lo ha fatto il vicepresidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, che ha assicurato anche sulle clausole per garantire un piano industriale e un futuro occupazionale all'azienda. Il nuovo bando è il passaggio più atteso per la soluzione della vicenda Santa Croce, la società che imbottiglia l'acqua minerale nello stabilimento aquilano di Canistro, a cui la regione ha revocato la concessione e chiuso la sorgente per irregolarità nel DURC, rilievi per la verità sempre rigettati dall'azienda, che per questo motivo ha avviato un duro contenzioso con l'ente. Negli stabilimenti di Canistro attualmente sono in forza 75 dipendenti, di cui oltre 50 in cassa integrazione a rotazione. Per loro però a fine novembre si potrebbero spalancare le porte del licenziamento, visto che la proprietà, in capo all'imprenditore molisano Camillo Colella, ha attivato le procedure di mobilità. L'Olli ha confermato anche che il nuovo bando recepirà le istanze dei sindacati e del territorio in un percorso condiviso, affrontando le incognite maggiori legate proprio al fatto che la proprietà dello stabilimento resti alla Santa Croce, così come il Marchio, e che un nuovo imprenditore dunque si troverebbe nella condizione di doversene costruire un altro. L'Olli ha spiegato che il bando deve tenere conto del ventaglio di scenari che potrebbero verificarsi e in questo caso dell'anomalia del sito da dare in concessione con lo stabilimento di proprietà di un'altra società. Il comune di Canistro, ha continuato l'Olli, ha messo a disposizione i terreni per fare eventualmente un nuovo stabilimento con la possibilità di allaccio alle condutture della sorgente. Il vicepresidente della regione ha ribadito anche che nel bando sarà dato massimo rilievo al riassorbimento delle maestranze, premiando i candidati che si impegneranno a riassorbire gli attuali lavoratori a parità di professionalità. In più ci sarà la clausola della procedura VIA, cui dovrà essere sottoposto il progetto industriale, la cui assenza è stato motivo del ricorso al TAR e dell'annullamento del precedente bando. VIA, 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 VIA.